Il terzo giorno per gli incontri del main draw della Val Gardena, reso conto delle partite del pomeriggio. Il primo singolare è un derby tedesco tra Langer e Pechner, finisce 6-4, 6-2 per Langer, un match molto equilibrato, soprattutto il primo set, poi nel secondo set Pechner cala. Ma sentiamo Langer. Questo è un super match, il primo set era più difficile che il secondo. Sì, sono davvero felice, ho giocato un buon match oggi, ho giocato anche una buona qualità e ora sono davvero felice che ho vinto qui. Il prossimo match contro Lopet Perez, lo conosci? Non lo conosci, ho visto il match prima, vedremo il prossimo giorno e spero di continuare così. Secondo singolare è quello fra Stakowski e Mektic. Lucarino Stakowski è la terza testa di serie numero due del torneo e non ci mente molto a eliminare Mektic con un 6-4, 7-5, anche se il risultato sembra che i due siano molto vicini. C'è un bel match combattuto nel primo set, il secondo set Stakowski ha una marcia in più, ma vediamolo. Stakowski è stato uno dei favori di questo torneo. Cosa significa questo? Oggi è stato il primo match, il primo match è sempre difficile. Ci sono nuove condizioni, c'è un po' 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 un po'. Sono venuto il settore, quindi sono venuto molto presto, quindi mi sono già più attento a Basta. Perché ho spesso qui a Firenze. E' la prima volta, è un po' 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 un po'. E' un po' 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 Abbiamo giocato alcuni punti e credo che sia molto importante. Abbiamo fatto un break in settimana e è difficile di riportare. Abbiamo fatto un buon lavoro di mantenere i servizi e rendere. Ma i ragazzi hanno giocato bene. Abbiamo avuto un po' di fortuna. Il break in il secondo settimana è importante? Si, ovviamente è difficile di riportare in questi punti. Mi sento che durante il match abbiamo avuto un po' di momentum. nei gioco di return. Abbiamo avuto un po' di conforto. Abbiamo avuto un po' di tempo. Abbiamo avuto un po' di 40 in questo gioco. Abbiamo avuto 30-40. Abbiamo avuto un buon lavoro di prendere la scuola. Inoltre abbiamo una macchina perfetta. Avete avuto la scuola e la scuola. Si, è quello che proviamo a fare. Grazie per averlo. Grazie. Ultimo match della giornata. Il singolare più importante è quello fra Bolelli e Karatsev. Vince a sorpresa il Russo per 6-4, 6-3 con un Bolelli abbastanza sottotono. Ma sentiamo il vincitore e in conclusione anche Bolelli. Il primo match è qui. È un super match against Bolelli. Hai pensato che sia possibile. La scuola è molto buona. Per l'altro. È un'ottima torna per me. È un bel gioco per me. Il primo round è un bel gioco per me. Il secondo gioco è il secondo gioco. È il topo per me. Quindi è il migliorale per me. E fare tutto quello che posso. Quindi è servito molto bene. In questa scuola è molto... È il migliorale per me. È il migliorale per me. È un'ottima torna per me, E una buona torna per me. Ogni tempo programmes. Tutti negli occhi, Ci sono dei problemi per me per me. È un buon giorno per me. Perché non ogni giorno gioio così. Io faccio il mio migliorale. Io sovrano ogni ball che questo è il risultato. Ok, buona fortuna. Grazie. È un grande peccato. È andata male. È andata male sì. Sì, oggi questo ho giocato molto bene, con il servizio faceva tantissimi punti, da dietro pure, ha sbagliato pochissimo, io un pochino più falloso del normale, primo set ho avuto qualche chance di andargli sopra le breakless di servizio, ma niente, poi su 5-4 ho sbagliato io due palle e lì ho perso il set, ma qua sopra cambia la partita in due punti, quindi niente, ci sta, bravo lui e amo. Sì, ha servito benissimo e poi ti ha martellato continuamente sul tuo angolo destro. Sì, di dritto ha giocato benissimo, anche di rovescio ha sbagliato veramente poco da fondo, il che non è facile qui perché la palla è molto veloce, io oggi non avevo una grandissima sensazione da dietro, ma niente, va bene. Ci sta. E come finisci la stagione? Mi alleno un po' sulla terra per andare a San Paolo, l'ultimo appuntamento e basta. In bocca al lupo. Grazie. Ciao, grazie. 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 We share.